Buongiorno a tutti. Per sostenere proprio la ricerca. Allora quest'anno la ricerca basa soprattutto su tre canoni, no? L'attenzione all'alimentazione, attenzione all'attività fisica e attenzione alla diagnostica precoce. Allora innanzitutto parliamo delle condizioni professore che possono portare all'insorgenza di un tumore. Abbiamo parlato sicuramente del fumo nella classifica probabilmente al podio, no? Ci sono altri fattori? Certo, ce ne sono tanti. Intanto va sottolineato il fatto che a volte è difficile comprendere questa interazione tra l'ambiente e la predisposizione genetica perché si sente spesso dire, ed è vero ed è il frutto della ricerca, anche quella finanziata dell'AERC, che i tumori sono una malattia genetica. Ed è così. Il fatto che siano una malattia genetica significa che nascono da un'alterazione di alcuni geni che ci sono nelle cellule e che portano queste cellule a comportarsi poi in una maniera sbagliata. Questa insorgenza delle mutazioni non è però un destino ineluttabile, è una cosa che interagisce con l'ambiente esterno e quindi noi possiamo fare delle cose che favoriscono come il fumo l'insorgenza di mutazioni o fare delle cose come un'alimentazione sana, come l'attività sportiva, che riducono la tendenza di queste cellule a mutare. In questo modo prevengono l'insorgenza dei tumori. Quindi in questo senso le campagne che prevedono il supporto alla ricerca e contestualmente la promozione di uno stile di vita salutare, sano, non direi corretto che è una brutta parola, ma sano è una cosa che ci fa bene. Stiamo leggendo che i fattori di rischio sono l'obesità, la sedentarietà, la familiarità, l'età, il fumo di tabacco e l'alimentazione scorretta. A proposito di alimentazione scorretta, allora parliamo proprio nel dettaglio dell'alimentazione, i cibi da preferire e quelli da evitare. Prevenire il cancro a tavola con? Allora intanto con un'alimentazione adeguata nella quantità al fabbisogno di calorie che noi abbiamo. Uno dei problemi più grossi è proprio il sovrappeso e quindi già riducendo del 10-15% il peso corporeo in una persona che è in lieve sovrappeso non è necessario essere obesi, riduce fino al 30% l'incidenza di alcuni tumori come quelli della mammella, del colon, anche quelli del polmone, quelli dell'endometrio e della prostata. Quindi alcuni dei tumori che incidono in maniera più importante nella popolazione. Poi l'alimentazione sana deve prevedere non soltanto la tipologia giusta di alimenti, ma deve essere una alimentazione intanto varia, che deve contenere tutti gli alimenti. E deve essere suddivisa in 5 pasti quotidiani, quindi i 3 pasti principali, la colazione che non andrebbe mai saltata e i 2 pasti principali e degli spuntini a metà giornata che servono a tenere bassi per esempio i livelli di certi ormoni come l'insulina che possono invece favorire l'insorgenza di tumori. E poi ovviamente noi siamo in Italia, siamo italiani, abbiamo la fortuna di essere stati educati in linea di massima alla dieta mediterranea, abbiamo la regina delle diete che favoriscono la prevenzione del canto. Soprattutto in questo periodo vediamo insomma tutta la famiglia dei cruciferi per cui broccoli, cavolfiori e questo è importante, favorire il consumo di queste verdure è importante. La dieta mediterranea si basa sull'assunzione di almeno 5 porzioni di verdura al giorno e già questo è una cosa importante, la verdura deve essere fresca e possibilmente di stagione, questa è la cosa più corretta. Poi un utilizzo di cereali e legumi molto importante, i cereali sarebbero da favorire quelli integrali perché contengono molte fibre che hanno un effetto di intrappolare alcune sostanze cancerogene e favorirne l'eliminazione, quindi hanno un impatto molto importante sui tumori del colon. E poi il consumare pesce al posto della carne, le verdure ci possiamo regolare anche con i colori, quindi le crucifere come diceva lei, i broccoli, tutta la famiglia delle crucifere che contengono delle sostanze antiossidanti che sono molto importanti nella prevenzione dei tumori e poi ci sono le verdure gialle e rosse che contengono determinati tipi di vitamine che favoriscono, le frutte arancioni come l'arance. L'arance per questo, insomma che light l'ha preso un po' come simbolo di questa campagna. L'altro punto è che le proteine sono importanti e un apporto di proteine che derivi non solo dalle carni rosse che pure vanno assunte, l'abbiamo sentito anche prima dalla collega medico di famiglia, ma anche dal pesce e dalla frutta secca, dai legumi, da altre fonti sono molto importanti. Il pesce peraltro contiene il pesce azzurro del nostro Mediterraneo, acidi grassi e omega 3 che hanno un ruolo molto importante nel metabolismo e nel ridurre il rischio. Allora parliamo anche delle cattive notizie, i cibi che dovremmo consumarli, io non dico eliminarli perché magari siamo troppo cattivi, però magari insomma limitarli sicuramente questo è importante già farlo, magari una volta al mese, una volta a due mesi, una volta a tre mesi. Come dicevamo prima la varietà ci deve essere tutta, quindi non ci sono cose che vanno demonizzate, però nell'ambito degli zuccheri tenete conto che la dieta mediterranea si basa per il 55-60% sui carboidrati, ma carboidrati non significa solo zuccheri, quindi gli zuccheri raffinati, gli zuccheri semplici sono dannosi per l'organismo in generale e vanno limitati, vanno sempre preferiti gli zuccheri complessi, quindi gli amidi, le patate, la pasta, che pure sono una fonte di carboidrati, ma meglio dello zucchero raffinato. Raffinato, anche della farina raffinata, dottore. Diciamo che gli alimenti integrali hanno tanti vantaggi, sia in termini di vitamine, sia in termini come dicevo prima di contenuto di fibre. Per cui al supermercato invece di comprare la farina 00, magari cercate quella integrale se riuscite a trovarla. Anche perché è gustosa, non è una rinuncia. Iniziate a cucinare con la farina integrale, perché no? Sulle carni rosse di cui si è tanto parlato, l'apporto di proteico delle carni rosse e anche di vitamine e di ferro è importante, andrebbe limitato a una, massimo due volte a settimana. È molto importante non tanto il fatto che la si mangi o non la si mangi, ma come la si cucina, quindi l'abbrace, i metodi di conservazione insaccati, le carni elaborate, quelle sono cose che in linea di massima vanno evitate. Allora, insieme all'alimentazione corretta ci deve essere anche uno stile di vita corretto, allora l'attività fisica, allora quanto è importante muoversi? Allora, avete appena parlato di fumo. È stato calcolato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che la sedentarietà, l'inattività fisica, è causa di circa 5 milioni di morti l'anno, che sono l'equivalente dei fumatori. Quindi incide quasi quanto il fumo. Per cui sicuramente il mantenere una buona attività fisica è importante non soltanto per la prevenzione dei tumori e ci sono molti meccanismi che l'attività fisica scatena in positivo per difendersi dai tumori, tra cui anche per esempio l'attivazione del sistema immunitario o il fatto di tenere bassi alcuni ormoni che sono quelli che poi influenzano i tumori più ormonosensibili, quindi la mammella e la prostata. Ma ricordatevi sempre che non ci sono solo i tumori e quindi un'attività fisica costante e continuativa vi protegge dalle malattie cardiovascolari, dall'insorgenza di diabete, dall'artrosi, da tutta una serie di patologie che rovinano di fatto la nostra qualità di vita. Ecco, a volte però risulta, come dire, difficile muoversi, soprattutto ad una certa età. Possiamo dare magari dei consigli pratici a chi ci sta seguendo? Intanto bisogna dire che basta abbastanza poco, tutto sommato. La raccomandazione è di fare almeno 30 minuti di attività fisica al giorno per 5 giorni a settimana. Attività fisica non significa che uno necessariamente debba andare in palestra o fare uno sport a livello agonistico, significa fare anche una passeggiata, significa portare a spasso il cane, per i nonni significa giocare mezz'ora con i nipotini. Certo, alzare il telecomando per cambiare canale, quello non si qualifica come attività fisica. Ma tenete conto che questa è una cosa che per esempio combatte anche la depressione e che ha un'efficacia nella prevenzione per esempio dei tumori al seno che è pari alla prevenzione farmacologica. Quindi l'attività fisica ha lo stesso effetto di un farmaco ma senza gli effetti collaterali. E per quanto riguarda la depressione, visto che ne abbiamo parlato, ha lo stesso effetto dei farmaci antidepressivi ma con una quantità molto minore di ricadute della depressione quando uno l'ha superata. Quindi è veramente una cosa molto importante. Parliamo della diagnosi, perché anche la diagnosi, abbiamo detto che l'ARC, la campagna di quest'anno, è proprio dedicata all'alimentazione, all'attività fisica e alla diagnosi precoce. Allora parliamo degli esami che devono essere fatti proprio per prevenire. Anche in questo caso va fatta una distinzione importante che è tra le campagne di prevenzione, che sono una cosa a cui deve pensare la politica e la medicina, quindi diciamo degli screening da offrire a tutta la popolazione e invece la prevenzione sul singolo individuo che ovviamente è una cosa un po' diversa. Quindi diciamo che ci sono delle metodiche di screening come può essere quella del sangue occulto fecale o della colonoscopia. Prendiamo in esame, infatti, il colon, il seno. Allora, il colon dovrebbe essere fatto alla ricerca del sangue occulto? Allora, nel caso dei tumori del colon è dimostrato che la ricerca del sangue occulto nelle feci, che però va ripetuta ogni due anni a partire da circa 50 anni, è in grado di ridurre la mortalità per cancro del colon di circa il 15-20%. Così come la colonoscopia praticata almeno una volta dopo i 50 anni e poi successivamente con una frequenza che può essere 5-10 anni, a seconda di quelli che sono stati i risultati della prima colonoscopia, è una procedura dimostrata, fatta su larga scala sulla popolazione, di ridurre la mortalità per cancro del colon. Parliamo del seno, perché poi il tumore al seno è uno dei tumori più diffusi, soprattutto tra le donne. Allora, quali sono gli esami raccomandati? Allora, diciamo che anche in questo caso la mammografia, fatta in generale oggi è raccomandato ogni due anni, e preferibilmente con tecniche di mammografia digitale che sono più sensibili ed espongono meno alle radiazioni, nella fascia di età che fa tra i 50 e i 69 anni riduce in maniera molto significativa la mortalità per tumore del seno, quindi ci consente di diagnosticare il tumore in una fase in cui è guaribile. Nella fascia di età che va dai 40 ai 49 anni e oltre i 75 anni, l'utilizzo indiscriminato è un po' più discutibile, va discusso con il medico curato. Parliamo della prostata, perché anche questo è il tumore alla prostata, è sempre uno dei tumori più diffusi. Tra gli uomini, quali sono gli esami da consigliare? Allora, questo è un esempio ottimo dello screening che va tarato sul singolo paziente, quindi questa è una cosa su cui non mi sento di dare delle raccomandazioni che valgono per tutti, è una cosa di cui dai 50 anni in poi bisogna parlare con il proprio medico e in base al proprio stato di salute, ai fattori di rischio, si valuta se per esempio eseguire un esame del PSA, che è un semplice esame del sangue, che può svelare dei tumori anche in fase precoce, ma potrebbe anche invece svelare delle patologie benigne per cui vengono fatti poi degli esami incongrui. Quindi questa è una di quelle situazioni che va discussa col proprio medico curato. Stiamo leggendo anche per quanto riguarda i polmoni, anche in questo caso dipende un po' dai fattori di rischio del singolo paziente. Assolutamente, però abbiamo detto che bisogna smettere di fumare. Quindi se non si riesce a smettere di fumare o se comunque si è fumato per tanti anni prima di smettere, ci può essere un'indicazione ad eseguire uno screening con un'attacca spirale, che è un esame con poche radiazioni e molto sensibile. E questo in alcuni studi ha dimostrato di ridurre la mortalità per cancro del pulmono. Parliamo delle raccomandazioni. Facciamo un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Un po' le raccomandazioni proprio per prevenire l'insorgenza dei tumori, dottor Milella. Allora, direi che intanto una sana alimentazione fatta di 5 pasti al giorno, con almeno 4-5 porzioni di verdura, poco sale, attenzione all'alcol e almeno un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno, che avete sentito, fanno bene anche per il fumo, è la base. Se poi questa spesa ce l'andiamo a fare a piedi e quindi facendo questo facciamo anche dell'attività fisica, oppure ci richiamo nelle piazze che vendono le arance dell'air, o nelle scuole dove i ragazzi stanno facendo questa campagna e ci andiamo a piedi o in bicicletta e quindi facciamo anche una mezz'oretta di camminata, è una cosa senz'altro utilissima. E poi, quando abbiamo fatto tutto questo, fare degli esami periodici tra quelli raccomandati o consultarsi con il proprio medico di famiglia per una corretta prevenzione è un'ulteriore garanzia. Grazie al dottor Milella, io vi ricordo, sabato prossimo, 30 gennaio, potete trovare i 15.000 volontari dell'AERC che tornano nelle 2.500 piazze di tutta Italia per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro attraverso la distribuzione, le vedete, delle arance della salute, il simbolo dell'alimentazione sana e protettiva. Grazie davvero alle loro straordinarie proprietà. Grazie ancora, dottor Milella. Il mio medico...